La prima volta che assaggio uno di questi Lulapop che Davo alle opere d'arte mobile del Pornostar è un Pornostar molto buono, devo dire molto buono, Davo un bel regalo Mi fa piacere averlo assaggiato perché devo dire che Davo a ciascuna di loro sicuro che questo è Pornostar un bel regalo, qualcosa di buono veramente quindi sono contento, qualcosa di veramente buono figo Ehi, ciao, a te piace la figa? Cioè ti piace la figa? Assolutamente il mio consiglio, io perché ho sempre tutte le figa cioè non c'è nessuna figa che mi dice che è impossibile perché io non ho la mentalità, cioè io ragiono con una mentalità sessuale diversa dal maschio cioè nel senso che, cioè, è chiaro che io sono solo per scoprire le femmine però so, cioè, la figa non resta, cioè, dopo dieci minuti basta è già partita qualunque e qualunque fila del mondo, qualunque e qualunque, qualunque perché ho una mentalità diversa? Perché ha voluto fare questo ragionamento sulle femmine? perché non è possibile, cazzo, che in qualunque parte del mondo vada cazzo, le più fighe del mondo, quelle più belle, quelle più fighe, quelle che hanno i soldi cazzo, si legano a me in un mondo sconcertante, figa sconcertante sconcertante ma cazzo, ma sentivo io un sapore strano non è coca normale è coca alla vaniglia sentivo un sapore strano stranetto strano quindi strano strano i